Dopo 11 serate di festa, musica, gastronomia, arte e cultura, si è conclusa domenica in Piazza Umberto, con una grande festa, la 31esima edizione della Settimana del Commercio. Sul palco i rappresentanti dei soggetti promotori, la vice sindaco Patricio Atolaini, Mario Moscardini e Fosco Bertoli di Confcommercio e Gianni Dini, presidente del comitato Compeama Castelnuovo. Tutti molto soddisfatti per il successo riscosso quest'anno. Ha toccato un po' tutti i temi, come dicevo prima, che a noi interessano. Culturalmente si è elevata, dovrei dire. Abbiamo avuto musica, arte, commedia, un scrittore emergente, il Nottoli, quindi ha presentato il suo libro. Tanti talenti, veramente, di musicisti, cantanti, ballerini. Anche i nostri prodotti tipici sono stati mostrati, diciamo, con questo percorso della gastronomia al meglio. Le presenze sono state tante, tantissime, forse più degli anni passati, nonostante che la stagione non ci abbia aiutato. Quindi significa che abbiamo lavorato bene, ci dobbiamo rimboccare le maniche, darci da fare per fare sempre meglio, con l'aiuto di tutti i commercianti, di tutte le attività che dovrebbero aderire in massa. Nel corso della serata è stata premiata la miglior bancarella. La vittoria è andata alla fiorista Giuliana con il tema delle principesse. Poi l'atto simbolico, la restituzione delle chiavi della città all'amministrazione, con l'augurio da parte di Bertoli di un buon governo. Poi il concerto del gruppo milanese Time Out, giovane e interessante cover band degli 883 di Max Pezzali. Due ore di ottima musica che ha coinvolto tantissimi giovani che hanno ballato e cantato in piazza per tutta la sera.